Luigi Cicchini, gara 4 dalle mille emozioni, la vasto basket è ancora viva e vivissima, però non si è ancora fatto niente. Domenica ci sarà la partita decisiva della stagione, la più importante, avete sempre detto che volevate andare in Cigold, mancano 40 minuti forse qualcuno di più, a Mosciano quanto è stata dura portare a casa la vittoria? La vittoria di ieri sera sul campo di Mosciano è stata un'impresa, è stata una grande impresa dei nostri ragazzi che in prima battuta l'hanno vinta sotto il profilo psicologico, perché comunque venire da una situazione di 2 a 1, avendo perso in casa, avendo le spalle al muro, facile non è, sapevamo che era l'ultima chance per riportare la serie a vasto. Però già da venerdì, dalla settimana scorsa, qualcosa stava cambiando, scusate, domenica. Siamo arrivati appunto a questa partita con qualche giorno di respiro, magari ognuno ha pensato, ha riflettuto sui propri errori, e dopo l'ultimo allenamento, prima della gara si è notato qualcosa, c'era voglia di riscatto in questi ragazzi, non era giusto terminare la serie ieri sera, non era giusto per noi, non era giusto per la società, non era giusto per tutto questo pubblico che attualmente ci spinge, ci spinge verso il risultato, verso la vittoria, non è giusto per chi ha preso il pullman ed è venuto a Mosciano per ben due volte in domenica e giovedì, e credo che la gara 5 ci ha ripagato di tutti questi sforzi. Adesso è chiaro, come hai detto anche tu, ma come giustamente dice anche il coach Gesmundo, non abbiamo fatto nulla, perché la realtà parla chiaro, cioè vuoi andare in gold e devi vincere domenica, adesso non abbiamo più chance, né noi né loro, siamo 0-0, dobbiamo ripartire, e adesso chi ne avrà di più in serbatoio vincerà, sono di questa opinione. Si è spesso detto a partita finita durante la settimana che con Fontaine, Marino e Ciampaglia magari la serie si sarebbe già chiusa prima a favore della Vasto Basket, però in queste ultime partite sono venuti fuori i giovani della Vasto Basket, a Mosciano si è visto un super peluso, è andato benissimo anche Flocco, c'è da stare contenti guardando a queste prestazioni dei giovani fatti in casa? Ma assolutamente sì, noi infatti ieri eravamo contenti sia per il risultato, ma appunto per queste cose che tu hai appena detto, per le prestazioni dei nostri ragazzi, sono prodotti nostrani, noi siamo estremamente felici della prestazione di Giorgio e di Andrea, comunque loro hanno dato tutto, anche durante tutta la stagione, l'arco della stagione, avendo poco o più spazio a seconda delle occasioni, si sono fatti sempre trovare pronti, ma è una parola fuori posto, io credo che questa vittoria porti anche la loro firma ed è giusto che sia così ed è giusto che venga rimarcato, perché è così. Abbiamo appena detto domenica partita decisiva 0-0, torna in mente la partita contro Campli di sette anni fa, l'avete scritto sulla vostra pagina Facebook, era giugno, era il 2012, noi ci ricordiamo di un Palabicicci pieno, in festa e infiammato come non mai, servirà ritrovare quel Palabicicci domenica, qual è l'appello che a nome della Vasto Basket puoi fare per la città? Beh io quel giorno me lo ricordo molto bene, anche perché ero in campo, quindi se noi tuttora ci ricordiamo ancora quei momenti, probabilmente perché è stata una giornata per noi tutti indimenticabile, credo che potremo raccontarlo ai nostri figli, a partire da me tra poco che Aurora inizierà a capire qualcosa di più di Palacanestro, potrò raccontarli di quella gloriosa serata, spero che insomma riusciremo a scrivere una nuova pagina indelebile di questa gloriosa società, è chiaro che adesso serve un Palabicicci come quella sera, adesso serve la presenza di tutti, serve la collaborazione, serve il tifo, serve il giusto tifo, serve l'incitamento, chi più ne ha più ne metta, non abbiamo più appelli, dobbiamo se vogliamo andare in gold, se lunedì vogliamo pensare di stare in un campionato nazionale adesso in primis parte da noi che scenderemo in campo, ma sicuramente la presenza delle persone, degli spettatori al Palabicicci ci darà una mano gigantesca, questo è l'invito e la richiesta che mi ha fatto anche la squadra di portare a voi testate giornalistiche, non lasciateci soli, abbiamo ancora un passo importante da fare e questo è veramente l'ultimo ballo.